All'inizio c'avevo come un'aspettativa e poi per fortuna alla fine mi ero talmente rilassato che pure io mi sono addormentato un attimo e in quell'attimo proprio mi sono ricaricato tantissimo. E questa cosa mi ha fatto piacere perché c'avevo un po' paura di non lasciarmi andare e invece ho visto che poi ce l'ho fatta insomma lasciarmi andare parecchio e quindi per me è stato stupendo.